Luca Cordero di Montezemolo lascia la presidenza della Fiat. A dare l'annuncio è stato lo stesso diretto interessato, che ha spiegato di aver chiuso un ciclo di cui era stato incaricato direttamente dalla famiglia Agnelli. La guida del gruppo sarà affidata proprio all'ultimo rampollo della famiglia torinese, John Elkan, affiancato da Sergio Marchionne come amministratore delegato. La carriera di Montezemolo alla Fiat era iniziata nel 1977, come responsabile relazioni esterne dell'allora presidente Gianni Agnelli.